Bene, siete pronti per ricevere la parola? Allora, oggi nel mondo si sta festeggiando la Pasqua, solitamente le domeniche, la domenica che concentra il giorno della Pasqua, facciamo sempre i parallelismi di quello che era la festa ebraica con la festa cristiana, perché sostanzialmente è così, che era una festa ebraica e poi in concomitanza che è accaduto il periodo che Gesù è stato crocifisso nella Pasqua e poi i cristiani si sono appropriati di questa festa e in qual modo abbiamo visto tante volte, non solo nella domenica della Pasqua, ma ne abbiamo parlato anche quando facciamo Academy, quindi oggi io non parlerò di questo, ma arriverò a quello. Il titolo della predica di oggi è una domanda, vuoi essere perfetto? Quanti di voi vogliono essere perfetti? Eppure sapete l'etimologia di questo termine non dice mai che l'uomo può arrivare ad essere perfetto, ma perfezionabile e sono d'accordo, cioè sui tavoli di discussioni e sulle varie correnti di pensiero, mai nessuno afferma che l'uomo potrebbe essere perfetto, ma perfezionabile e mi hanno trovato d'accordo, ecco. Quindi diciamo che noi abbiamo questo orientamento che l'uomo può essere perfezionabile. E oggi vedremo che cosa c'entra questo con la Pasqua, ma mi dovete ascoltare perché dobbiamo arrivare alla fine per capirlo, quindi vi chiedo davvero concentrazione, va bene? In tutte le domande che Gesù ha fatto o agli Apostoli hanno fatto, per quanto riguarda proprio la questione su essere perfezionabili o essere perfetti, ha un comune denominatore che vedremo insieme, quindi se tu vuoi essere perfetto devi, no? C'è sempre questo devi. Allora questo devi lo dobbiamo capire bene cosa significa. Quindi apri la tua Bibbia nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, leggeremo dal verso 38 e troviamo il primo riscontro quando si tira fuori proprio la questione su essere perfezionabili. Voi avete udito che fu detto, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi se uno ti percuote sulla guancia destra, approggi anche l'altra. O chi vuole litigare con te, prendi la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui anche due. Chi ti chiede e chi desidera un prestito da te, non voltare alle spalle. Voi avete udito che fu detto, ama il prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del padre vostro che ne cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvaggi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? O se salutate soltanto i vostri fratelli? Che fate di così straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come perfetto il padre celeste. Io direi di cambiare, voi siate dunque perfezionabili e poi confermiamo con imperativo categorico come perfetto il padre vostro. Allora facciamo un'analisi dettagliata, vedete in questo scritto fa una trafila di quello che la legge diceva e quello che la prospettiva di essere perfezionabili dice, cioè dice se qualcuno ti fa qualcosa tu in qual modo non puoi rispondere nella stessa maniera ma in qual modo devi avere una prospettiva differente. E quindi attutire colpi. Quanti di voi sanno attutire colpi? Lavoriamoci eh! Eppure vi dico una cosa, tutte le volte che si usa il termine perfezionabili ha a che fare con la predisposizione dell'amare andare verso l'altro. Quindi tutta la scrittura che è racchiusa nell'amore è nell'essere perfetti. Quando l'uomo arriverà a quello e allora è in concomitanza a quella perfezione che riscontriamo nel padre nostro. Come è perfetto il padre nostro? Ma noi non siamo in questo momento come il padre nostro. Noi siamo perfezionabili ma lui solo è perfetto. E tutte le volte che noi riscontriamo la questione di essere perfetti ti dico, Chiesa, che dobbiamo vedere l'altro e tirare fuori l'amore che abbiamo dentro. Oggi noi abbiamo preparato qui la Santa Cena, no? Avevo nel cuore da tempo però l'ho voluto fare cadere in questo giorno perché io credo che questo giorno è la massima esposizione dell'amore perfetto che è stato dato all'umanità quando Gesù ha sacrificato la sua vita per tutti noi. è il gesto più assoluto che l'uomo potrebbe vivere nel proprio cuore, quell'amore unico e speciale che non si trova da nessuna parte. Ecco perché voglio collegare nell'essere perfetto per capirlo. Io credo che noi capiamo le cose quando li viviamo. A volte le persone ci raccontano le cose, no? E dicono ma ti capisco. Però è un intercalare. Noi realmente non capiamo cosa sta vivendo quella persona. Tranne che non l'abbiamo vissuto noi. Allora se l'abbiamo vissuto noi, noi abbiamo empatia con l'altro perché abbiamo vissuto la stessa esperienza di quello. Allora diventa davvero, quella parola diventa vera quando noi diciamo ah ti capisco. Perché l'hai vissuto? Allora quando noi diciamo di essere perfetti o di arrivare a quella perfezione lo dobbiamo sperimentare, lo dobbiamo vivere per capirlo. Ma ci sono degli elementi straordinari che la parola di Dio ci mette in campo per poter in qual modo arrivare a essere come lui. Perché la Bibbia ci spinge a prendere quel modello. Gesù è il vero modello per arrivare a quest'amore completo e a essere perfezionabile e ad arrivare alla perfezione. Ovviamente noi viviamo in un mondo dove oggi è proiettato alla mania del perfezionismo. Ma non è perfetto. C'è la mania del perfezionismo ma è carente. Noi abbiamo una generazione carente in perfezione. Allora voi vedete che le persone fanno in modo possibile di apparire ma di non essere. Quindi apparire è un discorso, essere è un altro discorso. E voi vedete che quando apriamo i social e entriamo nella cultura, entriamo nei social, noi vediamo esclusivamente che la gente tende a essere perfezionistica e entrare nel perfezionismo ma non lo essere. Perché curano tutti i dettagli per fare una visibilità assurda, però realmente poi sono carenti nel vivere quello che vogliono fare apparire. Allora Chiesa, noi siamo di quelli che invece non dobbiamo lavorare sull'immagine esteriore. Quella è una conseguenza. Noi dobbiamo lavorare sull'attitudine interiore perché deve nascere a profondo nel nostro cuore. Per esempio una delle cose che possiamo fare con l'altro è quando noi in quel mondo riconosciamo di avere un dono, un talento, essere anche artisti, essere anche... Per meglio dire, tutto quello che noi possiamo mettere a disposizione dell'altro, noi stiamo raggiungendo a quell'aspetto della perfezione. Quindi noi possiamo entrare a essere perfezionabili quando quello che noi abbiamo lo possiamo mettere a disposizione degli altri. E allora lì subentro un processo che io prendo la mia vita, la prendo a mano e so che può essere in qual modo utile per la società chiamata Chiesa. E tu lo puoi fare con tutto quello che hai. Lo puoi fare col canto, lo puoi fare con la danza, lo puoi fare perché sei un artista, perché dipingi. E in questa Chiesa ne abbiamo molto. Ecco, noi possiamo raggiungere. Se tu lo fai a casa tua, no? E allora tu lo stai facendo per te, entriamo in un egocentrismo. Cioè io lo faccio per me e rimane statica la cosa. Anche se tu e io siamo bravi a fare una determinata cosa, ma se lo facciamo per noi stessi, rimane là statico, fine, punto. Quando tu lo metti a disposizione per l'altro, entri in un processo di perfezione. Perché quello è la nostra chiamata, il nostro ministero, il nostro dono, è per l'utilità comune. È per la Chiesa. Tu hai bisogno del mio dono, io ho bisogno del tuo dono. La Chiesa ha bisogno del completamento dei doni. E allora entriamo in quella prospettiva di essere perfetti. E Gesù è stato l'estremo esponente di questa grazia. Lui sapeva di essere l'unico perfetto al mondo. lui ha preso quello che sapeva fare meglio e l'ha dato per l'umanità intera. Il fatto che Gesù è perfetto nel nostro pensiero, nel pensiero comune, collettivo, il fatto che lui è perfetto è perché, se io facessi la domanda in questo momento, tutti direbbero no, perché lui non ha sbagliato mai. È vero. Indiscutibile questo fatto. Ma c'è di più di questa semplicità di domanda. Troppo semplicistica dire, no, lui non ha sbagliato. Non solo non ha sbagliato, ha preso tutto quello che aveva e lui era Dio e l'ha messo a disposizione per l'umanità intera. L'ha messo a disposizione per me e per te. Quindi è vero che lui non non ha sbagliato mai, ma quello che lui aveva l'ha sacrificato per tutti noi. Ecco perché lui è perfetto. e io credo che Gesù è arrivato a un certo punto della sua storia ministeriale, quando era in profonda angoscia, lui probabilmente manco voleva andare sulla croce e lui è arrivato a un certo punto, ha dovuto dire nel Gessemani, addio allontana questo calice da me, per favore, forse non voleva andare lì. Ma lui l'ha fatto. Ha investito quello che meglio sapeva fare. Un atto d'amore estremo per tutti noi. E allora l'essere perfetto nella Bibbia ha un solo orientamento. Questo orientamento è dovuto dal fatto che Gesù stesso nel suo mandato ministeriale lo stava facendo capire alla società. E quindi quando c'era, diciamo, la società giudaico e i primi cristiani, lui aveva questo modo di parlare e tirare fuori, ecco, questa parola di essere perfezionabili. E vi ricordate, anche nel seguirlo, lui ha incalcato questa cosa. Apri la tua Bibbia nel Vangelo di Matteo, capitolo 19, leggeremo il verso 21. Quando il giovane è ricco, parola con Gesù, dice, io ti voglio seguire. Bene, bravo. Benissimo. Ottima scelta. Però, significa che seguire Gesù induce una perfezione. Se vuoi essere perfetto, lo leggiamo insieme, Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai, attenzione, vendi ciò che hai, uno se vende un oggetto o vende tutto quello che ha, lo potrebbe reinvestire, no? Oppure lo potrebbe portare, come si suol dire, alla Chiesa, lo potrebbe portare al Tempio. Gesù è stato specifico. Se vuoi essere perfetto, io ti do un consiglio, la devi vivere per come la sto vivendo io. Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e dallo a quelli che hanno bisogno. Tu, se vuoi essere perfetto, devi vendere per dare a coloro, per dare a terzi, per dare al tuo prossimo, e allora sarai perfetto. E ti stravolge! Allora quel modello di essere perfetti è un po' lontanuccio da noi, pensiamoci bene. È un po' lontanuccio. Eppure Gesù ha orientato questo suo attributo di essere perfetto all'esposizione più totale di quello che noi siamo nei confronti degli altri. E l'ho riscontrato in tutte le scritture del Nuovo e dell'Antico Testamento, che questo processo di essere perfezionabili ha a che fare nella predisposizione di mettersi verso l'altro. Allora se noi stiamo lavorando sul conoscere la Bibbia, fate una cosa buona, su pregare per gli altri, fate una cosa lodevole, su investire per le future generazioni, fate una cosa lodevole. Ma tutto ciò deve essere racchiuso che io devo versare amore e mi devo perfezionare perché l'altro ha bisogno di quello che sono io. Allora vendi tutto quello che hai e dalle poveri. E poi, allora, entri in un processo, quello di seguirmi. Sta ordinario questa comunicazione di Gesù, sta volgente, pochi passi ma profondi. Quando entriamo nel personaggio Gesù, lui ti sciocca, la sua comunicazione è la migliore che ho potuto sentire nella mia vita. È diretta, precisa e ti scoinvolge tutte le volte che analizzi le scritture. Un segreto generazionale, cioè l'investitura che noi possiamo fare, è tramandare questo processo. E in qual modo Paolo, l'Apostolo Paolo, ha combattuto affinché questo processo di cui noi stiamo parlando potesse cadere di generazione in generazione. Apriamo la tua Bibbia, nella lettera ai Colossesi, a capitolo 1, leggeremo il verso 24. E dice, ora, sono lieto di soffrire per voi. Mamma mia, sono lieto di soffrire per voi. Non l'ha detto mai qualcuno, io sto soffrendo per te. Tanno innamorati che il primo mese d'amore, sto soffrendo per te, amore mio. Darò tutto me stesso. Poi passa l'anno, comincio a stare con te, è una sofferenza. Sempre una sofferenza c'è. E quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Immaginiamo queste parole profonde che l'Apostolo sta dicendo a questa comunità e che in qual modo risuonano devono risuonare in qual modo nel nostro cuore e nella prospettiva in qual modo di entrare in questo aspetto di essere perfezionabili e poi dice è di questo io sono diventato servitore ne ha fatto un suo ministero perché servitore equivale a diaconia che equivale anche a ministero secondo secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunciare la sua totalità la parola di Dio cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni ma che ora è stato manifestato ai suoi santi prima è stato nascosto e adesso è stato manifestato ai suoi santi chi è la chiesa quando mi dicono ma voi evangelici credete ai santi più di tutti e a volte dico e qui ne è uno davanti però la verità è che poi può cadere nell'orgoglio di dire ascolta ciccio e noi crediamo che c'erano dei segreti nascosti e quei segreti nascosti sono la mancanza del sapere che c'è qualcosa di straordinario che tu puoi dare alle generazioni oggi mi accorgo che noi abbiamo un popolo una generazione carente d'amore non so se voi avete ascoltato le ultime nelle ultime mattine il telegiornale ovviamente quando si tratta di famiglia di cose le mie orecchie diventano insomma quelle di Dumbo e mi è ho accalappiato una notizia che io ci lavoro da anni e che quando mi chiamano le trasmissioni vado sempre in lotta calo demografico il calo demografico non è perché mancano i soldi agli italiani è perché si sta perdendo l'amore verso il prossimo e se noi non arriviamo a capire dove sta il problema reale noi possiamo aggirare attorno al problema e lo vogliamo sempre risolvere con i soldi dai il bonus bebè dai il bonus famiglia dai l'assegno unico dai questo dai quello e poi lo Stato si trova quasi in fallimento perché non andiamo alla radice del problema e c'è una generazione carente d'amore a volte ascolto non faccio figli per responsabilità perché chi se la prende la responsabilità di farli crescere io ho i miei impegni e trovo sempre di più vedi Nello è contro tendenza io li faccio due assieme arriva poi Nello pum Nello è un uomo straordinario perché va contro e quel segreto che dice Paolo che è nascosto e che deve venire oggi alla luce il mondo cerca sempre di quando noi dobbiamo andare alla radice dei problemi di occultare le verità ma sappi sempre una cosa con Dio la verità verrà sempre fuori con Dio le cose occulte le tenebre con Dio ci sarà sempre la luce e noi avremo sempre chiarezza delle situazioni più dei politici più dei religiosi perché Dio è con noi a lui sta il potere allora quel potere quel mistero chiamiamolo così perché il mistero di Dio è la potenza di Dio è stata prima occultata alle generazioni e oggi c'è una generazione che la stiamo svegliando e stiamo dicendo apriti gli occhi guarda che c'è là fuori tu sei chiamato in questa generazione per dare verso l'altro eh ma pastore tu ci metti troppo la faccia beh chi se ne frega ma mi sembra un po' esagerato perché pure l'apostolo Paolo stava vivendo quelle condizioni mi mettono quei misteri all'occulto ma oggi noi dobbiamo svergognare il nemico per far risprendere la luce di Dio Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri e anche oggi lo vuole fare anche oggi Dio vuole fare questo fare riconoscere la sua ricchezza in mezzo a quelli che che magari non ne vogliono sapere nulla agli stranieri cioè Cristo in voi dillo alla persona accanto a te Cristo in te Cristo in te speranza di gloria Cristo in noi speranza di gloria è questo che noi dobbiamo essere orientati che Cristo in noi è la speranza della gloria guardate verso 28 che noi programmiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza questo è un investimento che noi dobbiamo fare dobbiamo fare conoscere queste pienezze che si trovano in Dio questo è il nostro mandato il ministero della riconciliazione affinché presentiamo ogni uomo perfetto cioè l'investitura che noi facciamo verso l'altro facendo riconoscere la potenza di Dio e il mistero di Dio allora ogni uomo è perfetto in Cristo vedete che tutto gira sempre all'antropos cioè all'uomo l'uomo beneficia delle cose di Dio tu se partecipi dell'altro e allora subentra un processo di perfezione è straordinaria la parola di Dio anche il modo di parlare verso gli altri ma quanto sofferenza c'è mamma mia sapete una delle cose che è quando è venuta una mia vera conversione ho fatto fatica era il linguaggio sapete perché io ero molto aggressivo ma molto e sapevo usare bene il linguaggio e sapevo ferire sapevo ferire con l'operatore benissimo e una delle cose che ho dovuto perfezionare è stato proprio il linguaggio verso l'altro perché me lo mangiavo con le parole però uscivo da un processo perché prima delle parole ce l'hanno i fatti facevo tante liti ma Dio è fedele e mi ha liberato da questa violenza in Giacomo capitolo 3 verso 1 dice fratelli miei non siate in molti affari da maestri sapendo che ne subiremo un più severo giudizio poiché manchiamo tutti in molte cose se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto se non sbagliamo nel parlare è un uomo perfetto capace di tenere a freno anche tutto il corpo guardate che straordinario questo cioè se noi siamo perfetti nella comunicazione nel parlare verso l'altro sappiamo gestire tutta l'altra parte della nostra vita beneficio comune la verità che quando noi parliamo con qualcuno o lo benediciamo o lo sappiamo mandare bene a quel paese no? molto lontano quindi cioè parliamoci chiaro chiesa o siamo alla nostra bocca per benedire l'altro o non c'è mezza misura o l'altro è ferito ma se curiamo la comunicazione ne beneficia il corpo che noi possiamo fare il parallelismo perfetto anche con la chiesa e anche con l'altro quindi anche la perfezione di cui parla Giacomo che è un uomo perfetto ha a che fare con l'altro mi mordo la lingua al beneficio dell'altro io so che questo è un processo e non bisogna minimizzare perché è una lotta che facciamo e io voglio entrare nel tuo cuore stamattina sapete la comunicazione che è stata fatta contro Gesù è stata diretta perché alla domanda cosa facciamo gente e tutti hanno risposto crocifiggilo crocifiggilo se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscono noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo infatti si mette il freno ai cavalli qui perché tu se vai verso sinistra lui va a sinistra se tu lo fai a destra lui andrà a destra se li tiri tutte e due lui si ferma se lo lasci lui va avanti cioè vedete che dalla bocca si può gestire un cavallo con la tua bocca puoi gestire la tua vita a beneficio dell'altro questo questo è un processo di perfezione vedete che tutta la bibbia è orientata vuoi essere perfetto mamma mia tutto orientato verso l'altro ecco perché quando noi guardiamo a gesù capiamo che lui è perfetto perché si è dato a tutti ecco adesso lo sperimentiamo non è semplice ma no perché non ha sbagliato quando sento quella risposta mi viene portato stomaco perché dico c'è di più di quella semplice risposta è una verità non la posso escludere ma c'è di più di quella verità che non è solo che lui non ha sbagliato ma ha fatto un atto d'amore a 360 gradi e poi rivedo la mia vita mamma mia se uso male il mio modo di fare se non mi do il mio ministero per l'altro se ho un talento non lo metto a disposizione se posso incoraggiare l'altro non lo faccio se sto offrendo l'altro cioè è di più di non ho sbagliato è di più di questo perché entriamo in un processo della nostra vita rivediamo i film della nostra vita quando noi parliamo ecco quando adesso tiri fuori di nuovo la parola perfetto o perfezionabile pensa a che processo dobbiamo analizzare per sperimentarlo nella nostra vita allora andiamo diciamo alla centralità nel nostro discorso Dio in noi cioè la perfezione lui rimane vuole rimanere in noi se in qual modo amiamo il prossimo cioè se noi ci mettiamo a disposizione per il prossimo amiamo il prossimo stiamo creando l'abitat di Dio nella nostra vita in prima Giovanni a capitolo 4 verso 12 dice nessuno ha mai visto Dio guardate che non c'è un punto di domanda direbbe che Cozzalone c'è un'affermità c'è un'affermazione qui nessuno ha mai visto Dio tu l'hai visto Dio qualche volta però guardate che profondo qua Giovanni perché poi dice se ci amiamo gli uni e gli altri abbiamo visto Dio mamma mia perché lui dice poi se ci amiamo gli uni e gli altri Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi sa ordinario quindi quando ti fanno la domanda tu hai visto Dio analizza il tuo amore misura l'amore che tu hai verso di lui e verso gli altri e allora tu hai visto Dio perché significa che se tu vedi Dio e sperimenti una persona tu vivi di quella persona allora quando ti faranno la domanda hai visto Dio se tu fai rivedere l'amore che hai verso l'altro l'hai visto Dio e lo stai facendo vedere pure Dio allora Gesù ha dato esempio della massima perfezione perché ha amato tanto ebrei capitolo 5 verso 7 dice nei giorni della sua carne con alta grida e con lacrime egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà benché fosse figlio imparò l'ubbidenza dalle cose che soffrì e il reso perfetto divenne per tutti quelli che li ubbidiscono autore della salvezza eterna essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec allora vedete che Gesù è la massima è il massimo esponente di quest'amore profondo perché lui imparò l'ubbidienza lui imparò che sottomettendo le sue emozioni sottomettendo la sua carne ha potuto rilasciare all'umanità questo tipo di perfezione che l'uomo deve sperimentare per poter essere salvato perché questo suo fare ha portato la salvezza all'umanità allora guardate sempre l'autore della letta degli ebrei che su questo diciamo fa questo parallelismo tra il sommo sacerdote Gesù e questo amore perfetto sacrificale chiamiamolo così guardate che poi viene orientato a noi ebrei capitolo 12 verso 1 anche noi dilla la persona accanto a te anche noi dunque poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è stata proposta profondità del messaggio fissando lo sguardo su Gesù con lui che crea la fede e la rende perfetta allora la nostra fede è perfetta sapete perché andiamo diciamo alla centralità del nostro messaggio portandola alla chiusura di questo discorso per la gioia che gli era stata posta dinanzi e gli sopportò la croce sapete chi è questa gioia per la gioia che gli è stata sono io e tu noi siamo la gioia di Gesù allora per rendere perfetta la tua fede devi sperimentare quella gioia c'è la perfezione anche della fede sperimentare il sacrificio di Gesù è quel sacrificio che è un insegnamento non solo il fine di quel sacrificio ma ha un aspetto continuativo cioè rende perfetta la tua fede se tu lo sperimenti e poi tu lo applichi perché quella gioia la dobbiamo tramandare a chi non ha più gioia a chi è nel dolore a chi è nella sofferenza dice che allora sopportò la croce disprezzando l'infamia che si è seduto alla destra del trono di Dio considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori affinché noi non vi stanchiate e non ci dobbiamo perdere d'animo allora quella gioia quel sacrificio quella fortificazione nella fede quella fede che può giungere alla perfezione deve essere un motivo affinché non ci perdiamo di animo allora a volte noi ci perdiamo di animo perché non riusciamo ad entrare in questa prospettiva ma quando pensiamo che lui l'ha fatto per noi e la vera Pasqua è questo vedete noi abbiamo parlato questa domenica del parallelismo con il popolo di Israele ma abbiamo parlato della vera Pasqua quell'amore perfetto quel comandamento quell'unico comandamento che lui ha voluto lasciare che ha avuto sempre una centralità per noi è quello dell'amore ecco il comandamento che lui ha voluto lasciare alla chiesa è affinché noi tutti potessimo giungere a questa perfezione è solo ha un tono semplicemente unico e speciale concentrato su un verbo amare ecco quell'amore profondo che Gesù ha lasciato all'umanità oggi noi abbiamo preparato la Santa Cena che è un memoriale per noi un ricordo profondo di quello che lui ha fatto per noi sapete una cosa che dico sempre che Gesù non ha fatto la Santa Cena con tutti se voleva come ha fatto sempre si metteva in piazza ok dicevo vino e pane a tutti no lui si è appartato si è chiuso con i suoi discepoli e ha detto io la devo fare con voi perché siccome questo è un evento importante non desidero che sia come dice Paolo in Prima Corinzia capitolo 11 dice affinché qualcuno non abbia un giudizio su se stesso lui l'ha fatto con chi li conosceva e sapendo che uno ne stava mangiando e bevendo indegnamente guardate Gesù ha subito fatto capire all'umanità che conta l'aspetto interiore che è quello esteriore perché con Mosè tu venivi visto peccatore se c'era l'atto compiuto con Gesù ha fatto un upgrade di quella cosa e dice no anche quello che stai vivendo dentro per me conta anche il tuo vissuto interiore allora ecco perché Paolo dice una cosa seria e non desidero che in qual modo si possa fare con persone che non sono in questa prospettiva allora chi si deve accostare si deve almeno avere battesimi in acqua non avere vizi infatti noi non battezziamo chiunque noi battezziamo persone che hanno scelto il cambiamento l'acqua il battesimo in acqua non ti cambia tu arrivi già cambiato che dici guarda io ho scelto di essere discepolo io voglio invitare i primi servitori i miei leader a venire qua davanti e mettersi a servizio degli altri si può accostare magari mettiamo un fondo una base e poi ne mangeremo e ne berremo tutti insieme si possono accostare quelli che sono battezzati in acqua che siete liberi da vizi che sapete perdonare a tutti coloro che nei prossimi battesimi o il sangue rosso amore prezzo della vita prendete il pane il peccato di ogni uomo ha preso su di sé con il sangue mi purifica sangue sangue di Gesù sparso per me il suo sacrificio fu per me il sangue la mia vittoria salvatore colui che è il santo morto per darmi vita lui lui l'agnello grande io sono che toglie il mio peccato con il sangue mi purifica sangue di Gesù sparso per me il suo sacrificio fu per me il sangue la mia vittoria il sangue dell'agnello il sangue dell'agnello il sangue dell'agnello il prezioso sangue dell'agnello il suo sacrificio fu per me il sangue la mia vittoria o quale amore niente è più grande che grazia incredibile quando ero ancora nel mio peccato Gesù è morto per me con il sangue mi purifica il sangue di Gesù sparso per me il suo sacrificio scendo da qualsiasi schema esci dal tuo porto fai a pregare insieme con il pane e il vino poi è arrivato a un certo punto io pregherò per il pane ne prendiamo tutti assieme e poi farò anche così con con il vino desidero che ci siano preghiere d'amore proprio ministrando quello che noi abbiamo detto prima e scegliti una persona con cui pregare facendo anche una dichiarazione d'amore io voglio essere perfezionabile ti chiedo perdono se ho sbagliato nei tuoi confronti rilasciate amore perdonatevi a vicenda prima di accostarsi io credo che dobbiamo avere il cuore libero di poterlo fare io voglio essere libero di farlo allora vai con la persona scegli a tuo piacimento non è un problema oppure lo vuoi fare con chi vedi come nemico fallo come abbiamo detto prima ma io credo che questi sono atti di amore profondo oh il sangue rosso amore prezzo della vita il peccato di ogni uomo ha preso su di sé con il sangue con il sangue mi purifica sangue di Gesù sparso per me il suo sacrificio fu per me fu per me il sangue la mia vittoria salvatore salvatore colui che è il santo morto morto per darmi vita lui lui l'agnello grande io sono che toglie il mio peccato con il sangue mi purifica sangue di Gesù sparso per me il suo sacrificio fu per me e dopo aver reso grazie prese il pane lo spezzò e disse che questo è il suo corpo dato per noi e noi sappiamo che nel suo corpo non successe delle cose straordinarie di vitale importanza lui cambia il suo corpo ha portato la guarigione nel mondo ha portato la liberazione nel mondo allora insieme e insieme con il tuo partner di preghiera mangiamolo tutti insieme nel nome di Gesù amè la Bibbia dice che parimenti dopo aver cenato pesa e calice il calice che ricorda il suo sangue versato per ognuno di noi alla memoria e quello che lui ha fatto quell'atto d'amore estremo che è per la salvezza di ognuno di noi e poi ha ricordato un evento escatologico che lui deve tornare e ha suggellato un patto d'amore e tramite il suo sangue noi ricordiamo quel patto d'amore che ha fatto per noi noi ti ringraziamo Gesù perché hai versato il sangue per ognuno di noi che ha portato la purificazione e la salvezza tu non hai coperto più il peccato ma tu l'hai cancellato dalla nostra vita nel nome di Gesù prendiamolo insieme Amen Adesso voglio pregare voglio pregare per tutte le persone che vorrebbero entrare in quella prospettiva di essere perfezionabili e che capiscono che feriscono ancora o che vengono ferite abbiamo i cuori feriti sapete essere liberi dalle dalle relazioni cioè per meglio dire essere liberi di poter intraprendere le relazioni questo ha a che fare con l'effetto chiesa essere un solo corpo allora Dio mi fa sentire questo nel cuore che ci sono davvero delle ferite e che quando ascoltiamo questo tipo di messaggi ci sentiamo così lontani da quel modello sappi una cosa qui non ti sta condannando nessuno Giovanni dice che Gesù non è venuto a condannare il mondo ma a salvarlo allora ti voglio presentare questa prospettiva di grazia e desidero davvero che tutte le persone che vogliono aiuto per questo perché quando ci mettiamo nei confronti dell'altro riscontriamo un deficit emozionale non sappiamo più abbracciare non sappiamo più pregare per gli altri non sappiamo in qual modo tenere a freno la lingua feriamo siamo feriti tutti quelli che volete una preghiera volete l'aiuto dello Spirito Santo venite qua davanti io voglio pregare per voi noi vogliamo pregare per tutti voi venite il peccato di ogni uomo grazie a tutti grazie a tutti